Cercasi ragazzi per il servizio civile, soprattutto per il progetto di educazione stradale di legalità promosso dalla Polizia Municipale. I ragazzi del servizio civile costituiscono veramente il motore di questa unità operativa, perché pongono in essere delle attività alla pari, quindi seguendo i criteri della PIR Education, con i ragazzi delle scuole, che è una delle attività fondamentali in cui la Polizia Municipale crede tantissimo. Il bando per il servizio civile è stato prorogato e scade il 9 di marzo, vi preghiamo di aderire un incarico compatibile anche con gli studi universitari e permette di avere un piccolo contributo. A me è piaciuto veramente tanto stare a contatto con i ragazzi, mi ha riportato ai miei anni di scuola, è bello poter condividere veramente alla pari, poi ho ripassato un sacco di cose io sull'educazione stradale, poi sapendo il cinese ho aiutato andando nelle scuole i più piccolini, che ancora non sanno l'italiano, a comprendere effettivamente quello che gli veniva detto e quindi mi porto a casa un bel bagaglio, sono veramente soddisfatta. Il bando è scaricabile sul sito di Officina Giovani e su quello dell'amministrazione comunale.